bella è una nave è una nave non so come verrà nel video ma è una nave è una nave è una nave guarda steve vada là su ma vedi sta andando guarda com'è bella grossa poi è una nave non passate quattro sfere prima si beh non so l'orticello dove c'è cani sotto a bimina non avevo ancora parlato ma ci ha detto è sparita non c'è più no 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 no